Il caffè si fa con amore e arte. È il presidente di Musetti Caffè, Guido Sicuro Musetti, ad affermarlo per presentare il murales che ha trasformato la facciata dell'azienda di Ponte Nure in un'opera d'arte. L'idea è nata in ambito di una rivalutazione e valorizzazione del nostro shop Musetti che volevamo riprendere come immagine e quindi dopo un periodo di dubbi su come poterlo gestire, illuminazioni, colori, disegni, abbiamo pensato con il nostro ufficio marketing di contattare questi artisti emergenti, Piacentini, che sono Guarino e Olaf, questi ragazzi che arrivano dal mondo dell'arte, prevalentemente dal mondo della street art e quindi l'idea che è molto attuale, abbiamo detto prima, non facciamo con loro un murales particolare, dando a disposizione questa parete, lasciando tema libero ovviamente con un richiamo al caffè. Lavorando per un paio di notti, così da non impedire l'accesso ai clienti durante l'apertura del negozio, Olaf e Guari hanno trasformato una semplice parete in una tela di forme e colori, piante e bacche di caffè, ma anche l'azzurro che maschera le vetrate, mentre rosso e bianco ricordano i colori di Musetti e i colori di Piacenza. La presentazione del murales è stata anche l'occasione per fare un bilancio dell'azienda. Possiamo dire finalmente un 2023 che ha ritrovato lo spirito, la voglia, i consumi, i fatturati che c'erano pre-covid nel 2019. Hanno soddisfacente, numeri in crescita quasi a doppio digit, facciamo un più 7,8 su tutto il gruppo, lavoriamo prevalentemente nel canale bar e quindi questo ci ha dato una grande spinta perché è ripreso veramente con grande energia e questa è una fortuna un po' per tutti che si mantenga.